. Uomini e donne News, la scelta di Sabrina, la reazione di Nicolo Fabri La reazione di Nicolo Fabri dopo la scelta di Sabrina Ghio, tronista di Uomini e Donne. . . Questa è cresciuta con il tempo e si è concretizzata con un bacio tra i due. . . Il motivo che ha portato l'attronista a non sceglierlo è stata proprio l'attrazione fisica, tra i due che è stato solo quello e niente di più. . Questo probabilmente è stato dettato dalla differenza di età anagrafica che che tra Nicolo e F. . . 23, e Sabrina, 32. . In realtà l'attronista, pur dimostrando un certo interesse per Nicolo Ragniolo, fino all'ultimo ha fatto pensare che avrebbe scelto proprio il bel 23enne. . . Purtroppo per molti e per il diretto interessato questo non è avvenuto e lo stesso Fabri si è sfogato attraverso un Instagram Story. . . . Purtroppo la vita è fatta anche di questo. Anche questa esperienza la prendo e porto a casa. Contentissimo, malgrado tutto, di aver dimostrato anche contro tutto e tutti le mie reali intenzioni. . 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 De Araniolo di ritornare in puntata che, dopo aver appreso di essere la sua scelta, carisce di non essere intenzionato ad uscire insieme a Sabrina dal programma.